Musica Musica Siamo nel castello di Bardi Siamo venuti a incontrare una persona che sta dando veramente tanto per il castello di Bardi perché la sua passione sono le armi e adesso lo incontriamo e ci spiegherà tutto quello che fa e quello che ha fatto anche per il castello abbiamo qui Giuseppe ciao Giuseppe ciao buonasera allora adesso siamo venuti a vedere le tue armi che hai fatto con una maestria eccezionale ce le mostri? assolutamente sì prego tutte queste opere che tu hai donato al castello sono state fatte da te? sì tutte le armi che vedete nelle vetrine sono fatte da me è una mia creazione durante la pandemia quindi tu hai avuto questa ispirazione anche questo dono perché ce l'avevi da tanto però è esploso nella pandemia sì è esploso nella pandemia perché non sapevo cosa fare era tanto che pensavo di fare qualcosa del genere invece che comprare armi per mettere in castello che costano e ho detto me le faccio io e le metto in castello su disegni originali medievali ho fatto queste spade questi pugnali questa scura da guerra mazza ferrata ho fatto un po' di tutto insomma mi sono adattato ascolta ci puoi descrivere un po' queste armi che hai fatto? partiamo da questa arma qua la prima è un cavaliere del XII secolo come potete vedere non ha tante ha solo una male di ferro non ha nessuna tunica sopra nessuna protezione ferrosa più pesante c'è un pugnale con il manico in legno abbastanza grezzo con il fodero in cuoio con la punta scoperta perché li usavano per scolare diciamo il sangue se vogliamo dire la cateveria e la spada spesso e volentieri non aveva fodero era la spada con una mano abbastanza corta molto semplice con un'impugnatura in pelle e basta tutto lì quella è una mazza ferrata che usavano sia a piedi che a cavallo poi c'è un'ascia da combattimento che usavano anche quella lì sia a piedi che a cavallo ha una mano molto leggera però era devastante quando colpiva le persone qui passiamo all'altro secolo dove già vediamo che comincia da comparire il primo elmo che veniva fatto tipo il pentolone ecco si chiamava il pentolone e già la spada è più o meno simile ma un po' più ricamata il coltello ha il fodero chiuso qui non si vede perché c'è la mano che copre ha il fodero chiuso di dietro e già comincia ad avere la cotta d'armi che è questa vestaglia che veniva montata sopra alla maglia di ferro per identificare era la carta di identità del cavaliere della casata della casata dove tu vedevi il colore e i simboli sapevi con chi avevi a che fare che era il tuo avversario o il tuo amico in quel momento abbiamo anche una spada greca la spada greca andiamo nel quarto secolo avanti Cristo quindi sono spade che poi arrivano che arrivano i romani utilizzano dopo le modificano diventano la daga diventano più grande più pesante io l'ho fatta perché mi piaceva come disegno molto così è stato un pensiero un po' evasivo un po' fuori dal medioevo ecco e abbiamo qui altre armi qui abbiamo il XIV secolo potete vedere che è cambiato il tipo di abbigliamento questa è una brigantina la brigantina cos'è? c'è sotto una cotta di maglia più leggera con la manica corta un camaglio che copre le spalle un elmo a becco di passero e la brigantina è rinforzata con delle piastre di ferro all'interno cambiano gli armamenti pugnale e spada sempre una mano con i foderi completi il rivestimento del pugnale è già un po' più sfizioso perché c'è un filo argentato intorno non è più molto spartano come prima che era di cuoio di pelle o quello che potevano utilizzare hanno già lo stivale alto e sotto hanno questo gambison che è una maglia molto imbottita con la grina di cavallo che serviva a tenere lontano il ferro dalla pelle poi ci sono altre armi poi ci sono c'è un altro pugnale con il manico in legno c'è una spada a una mano una spada a una mano e mezza detta bastarda che veniva utilizzata già nel quattordicesimo secolo prima questo tipo di spada non veniva utilizzata poi c'è un piccolo scudo da combattimento e il coltellino che tutti utilizzavano per andare a mangiare perché nel medioevo non potevano utilizzare la forchetta perché la forchetta erano le corne del diavolo quindi la chiesa non voleva assolutamente che si potesse usare la forchetta per mangiare quindi avevano o il cucchiaio o il coltello e loro per infilizzare la canna utilizzavano un coltello questo è un disegno di un coltello medievale ascolta Giuseppe tu parlavi di spada a una mano o a mezza mano spieghi il significato te lo spiego subito questa è una spada a una mano che veniva brandita utilizzata con una mano sola poi c'erano gli spadoni a due mani che qui non abbiamo per il momento non ce n'è neanche uno però erano molto grandi avevano un'impugnatura molto alta e certi cavalieri utilizzavano la spada da una mano e mezzo detta bastarda perché si poteva utilizzare con una mano e anche con due però in maniera un po' più ristretta non potevi utilizzarla con due mani belle belle piene è stata una delle spade più usate dal 1400 in avanti perché anche già nel 1600 1700 esistevano le spade bastarde definite così qui possiamo vedere l'esempio di un'altra spada a una mano e mezzo bastarda che è questa qua con un pugnale che anche questo è abbastanza grande questo è già una mezza daga se vogliamo un pugnale un po' più lungo di quello di quelli normalmente usati perché quando si difendevano potevano difendere sia con il pugnale che con la spada con due armi pugnate con due mani completamente in contemporanea però già in questo secolo compaiono i primi protezioni metalliche questo è un panciotto metallico tenuto su monta dei cinchi che serviva a trasformare il primo giubbotto antiproiettile se vogliamo il primo giubbotto antiproiettile il guanto ha già le dita tutte rinforzate con le parti in metallo e l'evoluzione la cotta di maglia è più corta la manica è più corta l'evoluzione delle armi e dell'equipaggiamento militare è così l'elmo è più piccolo più leggero però permetteva anche una bella protezione lo stesso bene proseguiamo e andiamo in un'altra stanza abbiamo un'altra epoca ancora più avanti siamo nel XVI secolo in cui già tutti i corpetti le mezze armature esistevano già esisteva già anche l'armatura completa però si pensava già visto che qui iniziavano ad esserci già le prime armature da fuoco l'armatura completa si arriva più praticamente a niente perché era un ingombro pesante dove uno non poteva neanche muoversi quindi arrivano questi primi elmi tipici spagnoli italiani i primi corpetti dove uno poteva essere protetto da un colpo di proiettile perché erano fucile abbastanza deboli come potenza alla barde che utilizzavano probabilmente per il combattimento d'arma bianca ancora e ci sono sempre i famosissimi i famosissimi i coltellini che questi li usavano sempre questi li utilizzavano sempre in qualunque epoca e quell'arma diciamo perché sicuramente è un'arma che sembra un martello è un ascia da guerra anche quella lì veniva utilizzata sia per spaccare che per forare quindi doppio uso doppio uso assolutamente sì queste le utilizzavano già nel medioevo queste sono armi che come quella che vedi là coltellaccio là sono armi che non hanno subito l'evoluzione tecnologica non sempre usate i poveretti chi non poteva permettersi le armi più sofisticate usavano quello che avevano usavano anche questi tipi di armi diciamo che in un combattimento all'arma bianca quello che tipo di arma andava bene basta che tagliava e che pungeva benissimo oppure seguiamo ancora perché ci sono tante cose interessanti da vedere che hai creato beh qui dunque in questa vetrina abbiamo le armi da lancio abbiamo una balestra che è quella centrale piccolina che è una balestra del XI secolo X-XI secolo la particolarità è che è tutta legno e corde l'arco che vedete in alto non è di metallo è di legno e le corde che ci sono volte tra l'arco e il corpo della balestra sono quelle che danno la torsione al lancio del dardo la particolarità è questa che questa balestra non l'ho fatta io l'ho fatta mio figlio possiamo dire come si chiama tuo figlio? Nicolas bravissimo preso da papà direi si ma l'ho fatta quando ero ragazzina adesso non la fa più si vede che andava a crescere ancora un po' prima di fare altre certo poi abbiamo un arco enorme questo è un arco in bambù non è in tasso come erano i famosi archi inglesi però è un arco che ha una potenza di 16-18 libri non è male insomma funziona bene tira abbastanza potente quindi abbiamo altre cose? abbiamo una faretta dei bracciali d'arciere dei copri braci d'arciere che anche questi qua ha fatto mio figlio con il cuoio cosa che ha fatto da ragazzino che adesso non fa più perché si vede che quando arriva i 30 anni poi queste cose qua ci dai un po' di ma magari poi fa come poi magari torna dopo magari si comincia a farle certo bene allora andiamo a vedere anche questa armatura questa è un'armatura del 2005 come puoi vedere dalle ammaccate che ha è un'armatura completamente funzionante nel senso che è stata utilizzata per combattere e le ammaccature lo dimostrano la spada ovviamente l'ho fatta io perché eravamo non c'era è una spada a una mano perché usando l'armatura la spada a una mano è più pratica da utilizzare che quella con due mani visto che queste spade queste armi sono molto molto belle hanno però quasi tutte uno stemma nell'impugnatura come fai a creare questi stemmi sull'impugnatura beh vengono fatti a mano vengono fatti a mano sì con uno scapellino una piccola penna elettrica perché adesso ci sono le penne elettriche meno male che ci sono così riesco a fare dei disegni di qualunque tipo insomma adesso cosa ci fai vedere adesso faccio vedere la novità di quest'anno che abbiamo creato il cavaliere temporare con il cavallo benissimo andiamo questa è l'ultima esposizione che avete fatto qui nel castello e rappresenta il templare rappresenta la storia del templare che è uno dei corpi cavalierischi più famosi al mondo durati solo 300 anni però ha creato un entusiasmo una storia impressionante quindi ho detto quest'anno pensando con il presidente della cooperativa con altri amici che collaborano abbiamo pensato di creare il cavaliere templare con il cavallo come poteva essere come era effettivamente in quel periodo in questo periodo perché abbiamo fatto questo perché i templari e bardi sono passati c'è un esempio ci sono delle fotografie ci sono delle documenti che indicano che i templari e bardi ci sono stati hanno avuto un passaggio probabilmente c'era solo un ospedale di templari e bardi però ci sono stati noi abbiamo creato questa cosa anche per per il fascino stesso del cavaliere del templare è sempre affascinato sia i grandi che i piccoli e questo tipo di ricostruzione che abbiamo fatto è tutto fedele alla realtà perché infatti abbiamo fatto abbiamo creato la tunicona con sotto la cotta di maglia completa gli stivali erano un paio di scarpe corte con gli speroni da cavallo l'asta con la bandiera l'asta con la punta e la lancia con la sua bandiera con lo stema del templare sopra e la particolarità è la spada la spada è inserita in un fodero di legno ricoperto in cuoio ed è attaccata alla cintura senza rivetti senza cuciture è solo tutto legato come era in quel periodo lì l'unica differenza che ci può essere nel fodero è che ci manca il vello di pecora all'interno perché il templare quando metteva la spada nel fodero doveva pulire doveva essere pulita per evitare la ruggine per evitare che ci tenevano più alla spada che tutto il resto era la sua vita la spada se vogliamo come tutte le altre armi che abbiamo visto anche queste sono state create da te sì assolutamente sia il fodero che la spada che il pugnale che il fodero l'elmo ovviamente no perché non sono ancora in grado di creare elmi di fare queste cose poi anche la sella del cavallo la sella del cavallo è una normalissima sella inglese che grazie all'aiuto di Bubu che è un ragazzo di colore che lavora qui al castello abbiamo modificato per farla sembrare tra virgolette una sella medievale qualcuno a qualcuno non piace a Bardi devo dire la verità perché si sente me l'hanno anche detto però io dico che è un angolo molto didattico perché i bambini e anche i ragazzi giovani nonostante abbiano anche magari 18, 19, 20 anni o 25 che non conoscono la storia bene come dovrebbero conoscerla però facendo un impatto di questo tipo la gente è più incuriosita magari si ferma e legge e capisce quello che vede è una forma di didattica un po' più coinvolgente se vogliamo adesso però proseguiamo perché andiamo a vedere altre cose che tu fai tu dovresti lavorare dove fanno i film dove producono film perché qui c'è una riproduzione di un fodero con la rivoltella certo questo l'ho fatto io sempre nella pandemia mi è avuta l'ispirazione per farlo perché noi ad Halloween quando facciamo le salate di Halloween utilizziamo questi tipi di armi per coinvolgere il pubblico per diciamo rendere la cosa più accattivante e utilizziamo fodere cinturoni e allora me lo sono fatto per me personale me lo sono fatto e mi piaceva e l'ho messo qua quanto tempo ci hai messo a fare questo fodero? non ne ho la più palle di idea sai perché? perché li faccio quando ho un po' di tempo metto li in garage faccio costruisco dovessi farlo da zero e dici dammi un tempo mi ci vorranno tre giorni tre giorni più o meno perché naturalmente anche tutti i disegni che ci sono su questo fodero sono tutti fatti a mano da te non sono stampati sì sono tutti stampati una a mano da me sì 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 assolutamente ci sono delle piccole borsine che queste naturalmente usavano nei tempi antichi questi da mettere accanto alla cintura certo queste sono tutte borse di disegno medievale venivano utilizzate appese questa è da uomo però poi si è utilizzata anche da donna mettendo una catenina o una corda io qualcuno l'ho regalata tipo le mie nipoti la mia nuora all'altra mia nuora loro le usano quando vanno vanno fuori e piacciono voi qui abbiamo un borsello molto bello da uomo questo è un borsello da uomo in cuoio quello è il mio personale perché me lo sono fatto e lo stufo di comprare dei cinesi me lo sono fatto direttamente benissimo perché me lo vale molto di più poi passiamo un particolare interessantissimo che diciamo unico per qua per barbi perché questi sono dei portachiavi dei gadget che però sono molto particolari perché c'è inciso una moneta mi dici che moneta è? c'è la moneta di Federico Landi il dritto e il rovescio praticamente è la moneta più famosa dello stato Landi bene adesso passiamo però anche a qualcos'altro perché qui ci sono delle spade che tu metti a posto sì io ho sistemato praticamente noi abbiamo un gruppo di combattenti che vengono qui al castello a fare tornei e non solo qua li fanno in tutta Italia quindi hanno diversi tipi di spade che sono come le macchine più le usi e più si consumano quindi succede che ogni tanto bisogna farci una revisione adesso tutti questi tipi di spade qua dopo un po' di tempo che le usi cominciano a fare la ruggine a rovinarsi il filo qui si cominciano a muoversi a ballare si deteriora tutto allora ogni tanto me le danno ci facciano restare in competenza una revisione poi vanno avanti ancora qualche anno senza nessun problema e vedi ci sono spade sia templari che saracene perché ultimamente fanno questi duelli questi combattimenti questi singolari tenzoni saraceni contro cristiani che poi è la realtà da tantissimi anni questa qua si lega ai templari che combattevano contro in terra santa con i saraceni certo diciamo la particolarità di queste spade queste sono dritte e quelle saracene invece hanno un'altra forma si si la spada templare era praticamente era una croce adesso ve la metto in piedi la spada con l'impugnatura cruciforme praticamente ricorda la croce di Cristo ed erano tutte così cambiamo un po' magari la forma un po' più rotondata un po' più però doveva essere la forma proprio tipica della cristianità delle europee soprattutto la lama invece saracena sono tutte ricurve io il perché non lo so però queste tagliano tagliavano tantissimo erano fatti più per tagliare che per infilzare queste qua erano armi micidiali erano armi micidiali più leggere più maneggevoli però erano micidiali quando quelli arrivavano quelli tagliavano veramente tanto e torniamo per finire al tuo bellissimo pugnale veramente questo è un capolavoro come tutti gli altri questo è uno dei tanti questo è l'ultimo che ho fatto che è quello che uso io quando facciamo le manifestazioni quando ci mettiamo in costume visto che non l'avevo più perché li ho messi tutti nella mostra me ne sono fatto uno giusto per questo è un manico di cuoio tipico templare con la croce a otto punte templare e in pugnatura a croce direttamente dritta dritta molto semplice ma molto molto funzionale se vogliamo ricordiamo anche che questo anche il fodero cucita a mano col filo qui ho fatto una piccola tutti i foderi che faccio in cuoio hanno questo tema che poi praticamente è il mio simbolo non c'ha iniziale non ha niente però questo è il mio simbolo è un fiore? sì tipo un fiore quando vedete il simbolo qua li ho fatti io hai qualcosa in cantiere che stai facendo che ti piacerebbe fare? ma adesso in cantiere abbiamo in mente di creare qui in castello saltare epoca perché col medioevo dal 1200 fino al 1400 e vogliamo anche quasi il 1500 siamo coperti sia come vestiti che come armamenti adesso vogliamo provare iniziare a fare il XVII secolo quindi cambiano i costumi sia maschili che femminili ma soprattutto cambiano le armi e quel tipo di armi lì è complicato farle sono molto difficili quindi tu ti devi proprio documentare prima di fare tutte queste armi? assolutamente sì perché in castello viene tanta gente a vedere le nostre mostre e se fai una cosa che non è storica fai anche la figura dal cioccolatino non va mica bene cerchiamo di fare delle cose fatte bene se vogliamo comunque per adesso diciamo che hai dato il meglio veramente grazie grazie guarda noi ti ringraziamo veramente perché è stata una cosa molto interessante sapere che tanti sicuramente non sapranno che abbiamo un artista anche nel comune di Bardi oltre a tanti altri naturalmente che però sa creare queste cose in modo veramente eccellente io ti ringrazio dei complimenti non mi sento un artista però me lo dite voi però io faccio quello che ma no io ti ringrazio grazie mille grazie davvero grazie arrivederci grazie a tutti grazie a tutti